Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Come stai? E poi che conta? La vita d'amore? La famiglia, le unioni, i rapporti, gli è Pato, io e te. Non mi hai messo dopo il cane. Puoi venire domani o dopodomani per le analisi? Ero venuto per dirle questo, io non vengo più. Tu non sei la gente che mi chiama, che mi chiede, che vuole sapere? Non ce la faccio, mi devi aiutare. Provo a riflettere sulla decisione più giusta da prendere. Come so di stare zitto? Io mi faccio 10 ore di aereo da andare, 10 a tornare per stare zitto. Non è un problema con Pato. Volevo sapere, come potrebbe reagire il cane? Una perdita o lutto? Che vuoi sapere? Amore, lavoro, passioni? Il futuro, il mio futuro. Farai un lungo viaggio. Vuoi di che ci prende? A me piace molto questa qua, perché è il modello Oriente. Soprattutto costa 2.500 euro. Usato non lo trattate. Ma posso dire una cosa bella e importante per me? Ho sempre ammirato di te il fatto che non chiedi ma nulla in cambio. E' uno di quei giorni che ti prende la malina. Fino a sera non ti lascio più. La mia fede è troppo scossa ormai. Ma andiamo incontro al futuro, andiamo, andiamo. Facciamoci quattro passi, vai. Il futuro. Ecco, però il futuro sta da quest'altra parte. E come tanto tempo fa, ripeto chi lo sa, domani un altro giorno si vedrà.